Ciao, sono la dottoressa Manuela Sappracone. Forse non sai che le tue unghie così fragili possono dipendere anche da un'alimentazione carente in due elementi fondamentali che sono la vitamina A e il calcio. Ma dove possiamo trovare questi elementi? La vitamina A la possiamo trovare soprattutto nelle uova, ma anche in diversi ortaggi, in particolare quelli che contengono il beta carotene, che è proprio un precursore della vitamina A. Il calcio invece lo puoi ritrovare soprattutto nel latte e nei suoi derivati, ma fai molta attenzione perché consumare tutti i giorni questi alimenti non va bene perché sono pro-infiammatori. Quindi ti consiglio di consumare altri tipi di cibi che contengono il calcio. Ci sono diversi vegetali, diversi ortaggi che contengono il calcio, ma anche l'acqua molto importante ne contiene in grandi quantità. Proprio per questo motivo ti consiglio di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e di consumare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura, ricordandoti di variare sempre per avere l'apporto di vari minerali e vitamine necessari proprio per il tuo organismo e in particolare per le tue unghie fragili. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio! Ciao! 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 Grazie a tutti.